step successivo alla cena prima di andare in palestra ho bisogno di calorie ora vi faccio vedere questa bella crepe all'oreo tiè regà beccate questa goduria da 5 non so quante calorie madonna ma è tanta tanta roba regà veramente buona ora passa già ora la dividiamo a metà metà io e metà mio fratello perché anche lui deve godere guardate regà guardate che spettacolo che è e poi l'appetite non è bianca pure nera coperta hai capito sì hai capito sì ci mettiamo pure l'oreo sopra e sale una botta regà che ti proprio disturba è poco buono guarda e niente io magno tempo un pochetto mi riposo e poi vado in palestra oggi ho mappetto dorso e braccia belli i carichi più che mai per tutto questo ragazzi vi saluto mi finisco questo bel dolce scrivete cosa ne pensate e se vi fa piacere seguitemi un bacione dai